Allora, grazie intanto di essere qua e grazie dell'invito. Io ho un compito non facile perché Filippo mi ha detto, parla di lavorazione del suolo, quindi di come preparare il terreno per fare l'orto, ma è un argomento veramente mega, complesso, variegato, perché il suolo intanto è la cosa più importante, cioè se noi riusciamo a rigenerare il suolo, a prendercene cura, avremo quasi sicuramente un buon orto, possiamo quasi dimenticarci di tutto il resto e concentrarci su quello. In secondo luogo il suolo è qualcosa che è un vero e proprio mondo, un ecosistema, possiamo considerarlo un organismo volendo, di cui noi sappiamo veramente poco, cioè anche proprio la scienza, figuratevi io, che non sono un esperto, ma sono un divulgatore, io mi occupo un pochino di condividere come si coltiva l'orto e per me è una passione, quindi non vi aspettate un intervento super scientifico e dettagliato, ma l'idea è di provare a portarci a casa qualche spunto pratico, anche magari un pochino, tra virgolette, banalizzando, semplificando un po'. In agricoltura non c'è un metodo unico, un'unica strada, ci sono tantissimi approcci possibili. Quindi io adesso qui non sono in grado di darvi una ricetta, di dire bene, vuoi fare l'orto, devi fare cinque passaggi. Ci sono un po' di buone pratiche che si possono adoperare o meno a seconda del terreno e delle risorse che abbiamo noi, quindi se coltiviamo un ettaro cambia rispetto a coltivare dieci metri quadri, così come il nostro mal di schiena, la nostra disponibilità di strumenti, la tipologia di terreno. Ecco, inoltre possiamo scegliere l'approccio, cioè si va da la lavorazione con l'aratro che prende e ribalta completamente in profondità le zolle fino alla non lavorazione, cioè noi oggi parliamo di lavorazione ma non è obbligatorio farla. Si possono citare agricoltura sinergica, l'agricoltura del non fare, Fukuoka, Ruth Stout, il non metodo di Giancarlo Cappello. Si possono citare tantissime esperienze che dimostrano che non è obbligatorio lavorarlo. Quindi io adesso vi dico un po' di cose di quello che mi pare di aver capito e che piace fare a me, però non pretendo assolutamente di dare una regola assoluta. Quindi ho spezzettato un po' per rendere, anche per aiutarmi a mantenere la mezz'ora e ho diviso in cinque buone pratiche. In realtà poi è tutto interconnesso quando parliamo di suolo, perché stiamo parlando, lo dicevo prima, di un ecosistema. Quindi se io mi preoccupo di fare una lavorazione per parlare di drenaggio di acqua, questa avrà anche tutti degli altri effetti. Quindi è spezzettato in cinque pezzi, ma in realtà è tutto un insieme. Allora, parto dalla prima cosa che si fa, almeno in ordine cronologico di solito, che è una lavorazione profonda. Quindi noi tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, mi trovo un terreno davanti, cosa faccio? Lo vango, lo aro, ci sono poi diversi strumenti, però l'idea è che vado a inciderlo in profondità. Questo lo si fa per vari motivi, uno di questi è garantire un drenaggio di acqua, cioè tutte le piante hanno bisogno di acqua, però se quest'acqua è troppa e si sofferma, poi andrà a creare dei problemi. Quindi, che cosa facciamo? Andiamo a fare la nostra lavorazione del terreno, andiamo a incidere per far passare l'acqua. Ora, dicevo prima, di approcci ce ne sono tantissimi e io non pretendo di dire quello giusto, perché non è una risposta. L'importante è cercare di avere un po' di consapevolezza. Ogni azione che noi facciamo nell'approcciarci al terreno avrà poi degli effetti. Quindi, se noi andiamo a lavorare vangando, sappiamo che stiamo entrando in un ecosistema e che questa lavorazione produrrà degli effetti. Quello fisico è quello di far passare bene l'acqua, di evitare di avere del ristagno, però, per esempio, io l'intitolavo rispettosa, perché se, per esempio, io con un aratro giro sotto sopra la zolla, ne parleremo poi, creo una certa alterazione delle dinamiche di quell'ambiente lì, che non è affatto detto sia positiva. Quindi, spunti pratici su questo tema è, prima di tutto, se l'idea è di evitare ristagni d'acqua, partire da una progettazione. Quindi, non si tratta semplicemente di arare il terreno, ma di riflettere prima sull'acqua come scorre, e quindi, magari, fare dei canali di scolo, dove è necessario rialzare l'aiuola di coltivazione e abbassare il camminamento. E poi, quando andiamo a lavorare a fondo, tendenzialmente cercare di non rigirare sotto sopra la zolla. Una delle lavorazioni che vengono fatte più di frequente negli orti, io lo so perché gestisco una community dove tante persone mi raccontano come fanno l'orto, mi danno degli spunti, mi fanno delle domande. Ecco, una è la moto zappa, o il moto coltivatore con la fresa, quindi la fresatura. La fresa non è una lavorazione profonda, perché se va bene arriva a una decina di centimetri. Ci tengo a precisarlo perché mi accorgo che tante persone, come unica lavorazione, fresano. Questo non è il massimo. Io non voglio demonizzare nessuno strumento, perché ogni macchina, ogni attrezzo che posso usare, lo posso usare bene, lo posso usare male. Però, vedete qua nella slide i denti dei coltelli. Questi girano in orizzontale e vanno a battere. Quindi cosa fanno? Banalmente sottoterra, sotto quella decina scarsa di centimetri, formano uno strato più compatto, che è dove poi si soffermerà l'acqua, noi non ce ne accorgiamo subito e avremo problemi poi probabilmente di patologie sulle piante. Perché abbiamo creato noi, con la lavorazione, un ristagno d'acqua. Quindi cosa significa questo? Che se noi decidiamo di fresare e ci può stare, perché magari ci agevola, ci evita della fatica dei lavori che non riusciamo a fare, teniamo conto che ogni tanto è bene andare un pochino più a fondo e scassare. Quando parliamo di lavorazione un pochino più profonda nell'orto, se facciamo passare magari il contadino con il trattore, si parla di aratro ma anche di ripuntatore. Il ripuntatore incide senza rivoltare sottosopra. Si parla di vanga ma anche di forca vanga o di grelinette, che è quell'attrezzo che si vede nella foto con due manici, che è comodissima e permette di andare a dissodare e ad arieggiare la terra, però senza appunto fare ribaltamenti della zolla. Ora abbiamo parlato un attimino velocemente di l'esigenza di arrivare a fondo. L'altra esigenza che abbiamo tradizionalmente è di avere una superficie che si adatta ad accogliere giovani piantine oppure semi che vogliono un letto di semina, si chiama, abbastanza omogeneo e quindi regolare. Per cui cosa facciamo? Andiamo a zappare oppure a fresare il terreno. Io qui, in base al terreno, è molto importante capire quanto è il caso di intervenire. Il terreno può essere argilloso, limoso, sabbioso. Fondamentalmente, per dirla proprio semplice, si tratta delle particelle che lo compongono. Se sono particelle grandi abbiamo un terreno sabbioso. Se sono particelle molto fini abbiamo un terreno argilloso, mentre il limo è la via di mezzo. Il terreno sabbioso non tende a compattarsi. Il terreno argilloso, invece, proprio perché è molto fine, basta un niente, basta una pressione, un calpestio, un compattamento, anche dovuto alla pioggia, e forma subito una crosta. Quindi, noi, è vero che abbiamo bisogno di un terreno molto fine che non ostacoli i semi, però attenzione che, se esageriamo, per i semi andrà comunque bene, ma alla prima pioggia ci troviamo una crosticina rigida. E questa crosta qua ostacola l'ossigenazione e crea una serie di problemi al suolo. Quindi, attenzione perché, torno ancora a criticare, tra virgolette, la fresa, che, ripeto, è uno strumento che, senza fondamentalismi, va contestualizzato. La fresa cosa fa? Stacca una zolla, la butta in mezzo a questo frullatore di coltelli, e quindi un po' la butta su, un po' cade per gravità, e la lavora fino a lasciarci una superficie molto fine. Questo è molto appagante alla vista, cioè, tutti noi, quando facciamo l'orto, se non abbiamo alle spalle un po' di esperienza, di amore incondizionato per la natura, ci piace fare il lavoro che poi lo lascia lì bello. Però, attenzione, perché poi questa superficie del suolo che si compatta è una grande forma di problemi, per cui, attenzione, sarà importante pacciamare il suolo, cioè coprirlo, per riparare dal compattamento, sarà importante non calpestarlo, qua non l'ho scritto ma do per scontato che in un orto si delimiti la parte dove passa l'uomo e calpesta dalla parte dove stanno le piante. Se proprio non pacciamiamo, e stiamo già sbagliando nel 90% dei casi, ci tocca sarchiarlo spesso, soprattutto se parliamo di un terreno argilloso. Ho criticato la fresa, non vuol dire per forza di cose che dobbiamo fare tutto a mano o che. Per esempio, questo qua si chiama ratro rotativo, fa più o meno lo stesso lavoro ma con un giro inclinato più verticale. Quindi cosa succede? Che spara fuori quelle zolle, le lascia un po' più grossolane ma non polvere. Quindi è un attrezzo alla portata di chi ha un motocoltivatore di media potenza. Oppure c'è la vangatrice, che sono proprio delle vanghe meccaniche che tagliano la zolla, anche questo tra l'altro le posso regolare in modo tale che lavorino abbastanza fine e mi lasciano un terreno che se non è pronto per la semina almeno è pronto per il trapianto. Quindi teniamo conto, è vero che sono attrezzi che costicchiano, però sono attrezzi anche adatti all'orto. Non siamo obbligati a fresare o a romperci la schiena, diciamo. Allora, terzo punto, rispettare i microorganismi. Ovvero, noi abbiamo parlato di suolo dal punto di vista fisico. In realtà all'inizio, dicevo, è un ecosistema, lì dentro c'è un sacco di vita. Quindi esiste una fertilità che è la fertilità biologica del terreno. Io qui ho rubato un'immagine agli amici di Bosco di Ogigia. C'è qua Stefania, c'è la maglietta proprio con questa. E che è anche tra l'altro la copertina... E' anche tra l'altro la copertina del libro di Francesca, della Giovampaola, che è appena uscito, che si chiama proprio La cura del suolo. E che un po' mi ha ispirato un bel po' di cose, insomma, il lavoro che hanno fatto loro sul terreno. Qua si vedono un pochino di animali, perché c'è una talpa di insetti, di vari organismi. E poi ci sono quelli ancora più piccoli, che non si vedono, che sono i microorganismi. Tutto questo insieme di vita, l'agricoltura moderna, convenzionale, lo tende magari a vedere come negativo. Perché in mezzo a questi ci sono patogeni delle piante, ci sono insetti parassiti, qualche problemino lo portano. Proprio perché, abbiamo detto, è un ecosistema, scusate se ripeto questo concetto, no? Quindi in un ecosistema non c'è mai qualcuno che prevale totalmente, ma c'è sempre qualche nemico ed è normale, fisiologico, che ci sia. In realtà, però, non è che ci sono soltanto parassiti lì dentro. La gran parte della vita delle piante dipende dai microorganismi che popolano il suolo. La nutrizione delle piante è basata su questo. Il concime organico che noi apportiamo viene decomposto da tutta questa vita qua. Quindi dobbiamo per forza prendercene cura. E qui, prima parlavamo di lavorazione profonda e di eventuale ribaltamento del suolo. Il suolo non è tutto uguale. Qua io sono un pessimo fotografo. Filippo, sicuramente, la spesa nell'orto potrà fare delle immagini più belle. Ma vi assicuro che questa zolla che l'altro ieri ho tirato via nel terreno di casa mia, ha la parte in alto decisamente più scura. perché è ricca di sostanza organica e poi sotto, io ho un terreno bello argilloso, la zolla è venuta su proprio il bel mattoncino, sotto diventa giallo, giallo vivo. Ecco, questo cosa ci dice? Sono terreni diversi, abitati da gente diversa. Sopra ci sono microrganismi che vivono nella sostanza organica, che hanno bisogno di ossigeno e sotto c'è una vita che invece se ne sta tranquilla al riparo. Quando arriviamo noi con la vanga, tiriamo su questa fetta e la giriamo sottosopra, andiamo a seppellire dei microrganismi che volevano stare sopra e viceversa andiamo a tirar fuori degli altri che se ne stavano tranquilli. Naturalmente la natura ha tutte le risorse per riprendersi, però non ci stiamo prendendo cura di questo terreno. Cioè se noi vogliamo rigenerare un suolo non possiamo prescindere dal preoccuparci degli effetti delle nostre lavorazioni anche sulla sua vita, perché è fertilità questa qui. Soprattutto poi se andremo, come vedremo, a dare un concime organico, un ammendante, quindi se apportiamo dell'etame ci serve un apparato digerente pronto che lo metta poi lì subito per le piante. Attenzione a rispettare la stratigrafia del terreno, quindi la forca è meglio della vanga, perché incide, rompe, ma non tira su. Il ripuntatore è meglio dell'aratro tradizionale che ribalta tutto. Questo meglio non è una regola universale, in agricoltura sempre dipende. Per esempio, mi approccio per la prima volta a un prato dove c'è un pane di radici importante, posso decidere che è il caso di ribaltare la zolla, di fare una lavorazione più impattante. L'importante è saperlo. È chiaro che se io ho un terreno che coltivo da una vita, non ha senso che ogni anno vado a ribaltare. Lo faccio magari per contenere le erbe infestanti, ma in realtà pregi e benefici non compensano a mio avviso quest'operazione qua. Sulle infestanti è un altro tema su cui si potrebbe parlare ben più della mezz'ora. Io vado avanti così poi dopo magari c'è spazio per qualche chiacchierata, perché voglio stare un po' nei tempi. Apportare sostanza organica, quarta buona pratica. Questa qua è contemporanea alla lavorazione superficiale nella mia visione, nel senso che la sostanza organica in natura cade sulla superficie, quindi non la dobbiamo seppellire. È tutto interconnesso, come dicevo. La sostanza organica fa un sacco di cose per il terreno. Apporta nutrienti, banalmente nell'etame, nel compost, c'è ciò di cui ha bisogno la pianta. Quindi azoto, fosforo, potassio, tutti i micronutrienti, in varie percentuali sono lì, per cui andiamo ad arricchire. Rende soffice il suolo e lo migliora. Prima abbiamo parlato di terreno argilloso che si compatta. Se io ho un terreno argilloso organico, la sostanza organica si mette in mezzo alle particelle, proprio per semplificarla in maniera banale, e mi dà un grosso vantaggio su questo. Quindi riuscirò ad avere un terreno argilloso che resta soffice. E fa davvero miracoli su questo. Oltretutto migliora anche i problemi dei terreni più sabbiosi, invece, che sono terreni che non si compattano molto, ma che non riescono a trattenere l'acqua e a trattenere i nutrienti. La sostanza organica agisce come una spugna, per cui riesce ad avere un po' più di ritenzione idrica, quindi resta un po' più umido. Pensiamo al terreno del bosco, quello che proprio abbiamo in mente, che ha quell'odore caratteristico, che è nero, ma nero. Quello è un terreno organico e ci fa capire. La sostanza organica nutre i microorganismi e gli permette di proliferare. Quindi concimare infertiligazione vuol dire imboccare la pianta con quello di cui ha bisogno. L'ottica di una coltivazione un pochino più naturale e rispettosa della natura deve partire da, in realtà, migliorare il terreno. Non importa poi più di tanto cosa ci coltiverò dopo. Io devo avere un terreno dove vado a dare un apporto di sostanza organica che contiene i nutrienti, che saranno disponibili gradualmente e quando io ho un suolo che sta bene e che funziona, poi le orticole, è vero che c'è quella un po' più esigente e quella un po' meno, però mediamente avrò dei bei risultati un po' con tutto. Quindi io spunto pratico. Adesso, naturalmente, qui ho messo dei numeri perché mi vengono spesso chiesti, ma sono da prendere super con le pinze. Io dico, apportare compost e letame che siano maturi, cioè non li metterei direttamente materia non decomposta, ma lasciati riposare un po', perché i primi processi, i primi microorganismi sono particolarmente aggressivi. Se avete provato a fare del compost o a fare un mucchio di letame, sapete che genera calore, per esempio. È chiaro che farglielo trovare vicino alle radici della pianta potrebbe non essere la miglior idea. Quindi almeno quattro mesi ce lo teniamo lì, oppure lo prendiamo, non so, da un agricoltore che ce lo fornisce già maturo, e ne mettiamo, io consiglio, un 3-4 kg a metro quadro. Non bisogna avere troppa paura. È chiaro che in tutto l'eccesso non ha senso di essere, però, diciamo, una cariola si possono, più o meno possono essere a spanne 30-40 kg e si possono fare una decina di metri quadri, no? E l'altro consiglio è, io preferisco metterla non il minuto prima di trapiantare. Cioè, magari, possibilmente, non so, si fa l'autunno, poi si lascia lì tutto l'inverno e la primavera si fa l'orto, oppure, se proprio, un 7-10 giorni prima. Premesso che sono tutte buone pratiche, che poi, la cosa bella della natura è che tu, comunque, a volte butti un seme senza fare niente e viene su di tutto e di più. Ultima cosa, coprire il terreno. Perché? Perché in natura non esiste un terreno nudo. Cioè, esiste e si chiama deserto e, ovviamente, non lo prendiamo da coltivatori, non lo prendiamo come esempio, come spunto. Quindi, io, dovrebbe essere obbligatoria negli orti, no? Io la pacciamatura la consiglio a prescindere. Sono pochi i casi in cui non mi conviene farlo. Do via, magari, i rapanelli, che sono così veloci, che li metti giù, prima non fa in tempo a mettergli la pacciamatura e sono già da raccogliere. Allora, dici, gli do una sarchiatina a metà strada e la finisco così. Però, in generale, il terreno è bene che sia coperto. Poi, io dico pacciamatura, ma magari si può decidere di coltivare ortaggi molto vicini, se si è abili nel combinare quelli giusti per spazio ed esigenze. Si può decidere di fare delle cover crops, quindi una pacciamatura di piante vive. Ci sono tante tecniche. Io sono costretto dai tempi ad andare via un pochino veloce, ma voglio solo dare una suggestione che poi dopo uno magari si vada a vedere, a sperimentare nel proprio. La pacciamatura per noi fa davvero tante cose. Limita le piante infestanti. Qua, dicevo, è un tema che non apro troppo perché se no stiamo a parlarne molto, però il discorso è questo. Noi vogliamo coltivare delle piante che sono deboli, perché le abbiamo selezionate per quello che piace a noi, non per competere in natura. Quindi è con buona pace del nostro voler intervenire il meno possibile quelle piante lì potrebbero facilmente soccombere se le mettiamo in un contesto non controllato. Questo non vuol dire che dobbiamo essere maniaci dell'orto tutto pulito. Alcune piante convivono tranquillamente con i nostri ortaggi, altre meno. È chiaro che se noi diamo una bella copertura attorno alle nostre piante ovviamente ci siamo risolti il problema. Nel senso che quello che riesce a spuntare su dalla pacciamatura ci sarà, ma va bene, possiamo anche non preoccuparcene troppo. Ripara il suolo dal compattamento, ne abbiamo già parlato, lo mantiene umido perché ovviamente evita che il raggio di sole lo faccia asciugare, lo protegge dal vento, lo tiene ombreggiato e tutto quanto. E poi, ecco, io consiglio di usare materiali naturali che diventano sostanza organica loro stessi. Quindi la pacciamatura di paglia, di fieno, di foglie, di cippato è materia che rimane lì, si decompone e arricchisce il suolo. Per me, spunti pratici, usare materiali naturali è importante perché innanzitutto è traspirante. Cioè, a me non piace il suolo che si forma sotto il telo. Vedo che ci sono delle muffette, che ci sono delle cose non naturali perché si ossigena meno. È chiaro che se io coltivo una superficie estesa può diventare comodo e allora, come tutto quello che ci diciamo, il fondamentalista non va da nessuna parte. Chiaramente usiamo un telo in Mater B, compostabile, poi, vabbè, ce ne sono anche in Iuta che sono fantastici ma costano un patrimonio, eccetera, eccetera. Però il concetto è io copro il suolo, va bene anche il telo. Se faccio l'orto, però, a maggior ragione, se magari c'è un prato dove ogni tanto sfalcio, c'è del materiale che va bene, usiamolo. Irrigazione a goccia, possibilmente sotto la pacciamatura, se decidiamo di farla, è molto buona perché io do l'acqua gradualmente, la do sotto e ho completato. Se uso il telo, irrigazione a goccia per forza perché se no non è traspirante, l'acqua se ne scivola via, sono obbligato a mirare il buchino. In conclusione, e sono stato abbastanza svizzero, adesso mi prendo gli ultimi cinque minuti che così come tutti i relatori rubano qualche minuto perché si deve. In conclusione, cosa abbiamo visto? Io faccio così, cerco di lavorare senza ribaltare il mio terreno, mi piace la grelinet, se è un po' più duro la forca vanga che è più piccola, poi apporto la sostanza organica e gli do una zappatina in modo tale che stia nei primi cinque, dieci centimetri e già che lo faccio si affina. A quel punto posso già pacciamare e mettere le piantine oppure all'affino un po' di più se vado in semina diretta e la pacciamatura si mette dopo. A chi dirà giustamente ma i miei nonni a suon di aratro e di moto zappa, i miei bisnonni a suon di aratro hanno sfamato hanno sfamato l'umanità è verissimo, io l'ho detto, non è che c'è una via sola. È chiaro che insomma i nonni hanno anche questo proverbio che io odio che dice l'orto vuole l'uomo morto. Noi oggi abbiamo fatto delle riflessioni banalissime senza inventare niente con tecniche che si usano da secoli però con la grelinette va sicuro che la schiena è un fiore perché si trascina si lavora solo di braccia e si movimenta. Apportando le tame rimane morbido mettendo pacciamatura non devo poi irrigare spesso non devo controllare le infestanti. Alla fine tutto questo insieme magari non ci ha fatto produrre di più del campo vicino tutto pulito ma ci ha fatto fare un sacco meno di fatica ci ha fatto sprecare un sacco di energia in meno tra l'altro abbiamo usato tutto potenzialmente a chilometro zero posso sfalciare la pacciamatura posso farmi il compost se poi c'è un pollaio lo facevo vedere Alessandro Valente stamattina mi faccio il concime da solo anche di origine animale e abbiamo lavorato imitando la natura e insieme alla natura i microorganismi la decomposizione come le foglie nel bosco che cadono io penso di aver fatto un intervento di una banalità impressionante e mi scuso con voi perché sono cose un po' scontate se vogliamo ma purtroppo mi rendo conto dalle interazioni che siamo stati un po' abituati male perché se vado al consorzio mi danno dei granellini un flacone mi consigliano la moto zappa e mi dicono che la devo passare ogni volta che semino ecco quindi a me piace l'idea di dire volete usare la moto zappa va benissimo ma bisogna sapere però che non è solo la panacea di tutti i mali fa anche qualche problemino quindi per esempio se fate un sovescio cosa di cui non ho parlato andatevi a cercare perché è interessante e non ci stava fisicamente nei tempi ma è un'alternativa di lavorazione e concimazione se vogliamo vederla così la moto zappa può essere utile a interrarlo per cui tutto va preso con un pochino di consapevolezza poi dopo come dicono gli amici di Bosco di Ogigia che ho già citato fatevi gli orti vostri cioè qui non è che c'è il metodo che il guru ha detto come fare ecco grazie no no Romanna intanto ti contraddico Matteo solo sulla tua preoccupazione della banalità dell'intervento perché in realtà sono ottimi consigli e ti ringraziamo anche io questa storia pregressa cioè di consigli dati da i famosi nonni quelli prima di loro che hanno sempre fatto così in realtà un altro modo c'è e hai fatto benissimo a dirci quali soluzioni quali conseguenze poi hanno anche l'utilizzo del suolo in certe occasioni Laura mi ha rubato il libro che lo sta sfogliando lo volevo comunicare Matteo me l'ha gentilmente fatto omaggio lo lascio un attimo lì per per sfogliarlo non ve lo inguattate lo trovate online è un ottimo manuale su mettete orti nei vostri balconi grazie Matteo grazie ecco Filippo mi ha detto lo trovate online ma vi dico anche adesso no no lo trovate però ieri sono passato c'è una libreria bellissima sul lago Castiglione può essere lo trovate anche lì perché la libraia è super simpatica e si fa un mazzo quindi gli faccio un po' di pubblicità volentieri siamo molto abituati online ma a volte si può anche fare un po' di chilometro zero facendo l'orto avendo a disposizione diciamo la cenere proveniente da bruciatura di potatore eccetera esiste un vantaggio se c'è e quando farlo aggiungere cenere al terreno allora sì la cenere è ricchissima di sostanze nutritive quindi è sicuramente molto positiva perché apporta per esempio potassio poi ci sono tanti micro elementi che sono benefici io consiglio di non esagerare perché intanto è fortemente basica e comunque altera un pochino le caratteristiche del suolo a me piace prima così togliamo la pubblicità lavoriamo insieme alla natura in natura se c'è un incendio è un evento traumatico da cui poi la natura dovrà riprendersi e ci sono delle piante particolari che vengono su in quel caso quindi buttare secchiate di cenere non è una buona idea una spolverata come il parmigiano sulla pasta ho sentito dire in un corso che frequentai questo è molto buono io preferisco non aggiungerla nel compostaggio perché non so bene i microorganismi potrebbero non del tutto secondo me gradire quindi la butto direttamente tanto si usa in inverno butto su un pochino una spolverata e poi in primavera le piogge le cose l'avranno un po' ti dico però visto che tu giustamente hai detto bruciature di potature il mio consiglio le potature se puoi è di triturarle quindi con un biotrituratore o con un trincia perché il cippato è un gran bel materiale e quando tu fai quella bruciatura che avviene all'aria aperta generi un inquinamento veramente importante che viene troppo cioè uno pensa vabbè sono solo dei rami in realtà ci sono dei dati di regione Lombardia io sono lombardo che hanno provato che nel giorno di Sant'Antonio non so se anche qua è così si fa il falò di Sant'Antonio dove vengono bruciate tutte le potature in quel giorno lì in provincia di Milano che non è proprio la zona agricola come può essere qua aumenta di brutto anche peggio dell'inquinamento generato dai pendolari di Milano l'inquinamento perché lì buttiamo residui CO2 eccetera nell'aria se invece cippiamo lo possiamo compostare e tra l'altro io qua consiglio L'Orto Senz'Acqua è un manuale edito da Terra Nuova non fatemi pronunciare l'autore francese che è un manuale interamente dedicato a come si coltiva col cippato ed è interessantissimo è un materiale che ha delle potenzialità grosse ciao ti volevo chiedere quell'attrezzo francese la grelinette qua viene chiamata bioforca allora questo è un punto dolente su Amazon per dire ce ne sono diversi modelli io quella che hai visto in foto l'ha fatta un coltivatore tra l'altro super interessante che si chiama Matteo Mazzola di Easy The Farm e lui se l'è prodotta per lui e che gliela chiede gliela fa con tempistiche non sempre brevi però la fa perché ha alcuni accorgimenti un po' però cercando grelinette si trova si può farsela spedire dalla Francia ma ormai si trova anche in Italia non so come mai non si trovi in tutti i garden center perché è veramente un'altra vita pesa per cui bisogna un pochino cambiare cioè non è come una vanga io l'ho imparato dopo all'inizio cercavo di infatti quella di Matteo è un po' inclinata praticamente la si conficca anche un pochino inclinata poi si tira verso di sé e si trascina così lei scorre indietro e torna giù grazie a tutti facciamo un applauso è stato magnifico grazie a voi grazie a tutti